Due giorni di prove di evacuazione a Pozzuoli, il 30 e il 31 maggio, immaginando una situazione 3, l'eventualità considerata peggiore dalla protezione civile dal punto di vista degli eventi sismici. L'ho annunciato la vice capo della protezione civile nazionale, Titti Postiglione. Il 22 aprile ha spiegato ci sarà una prima esercitazione riservata ai posti di comando della protezione civile nell'area flegrea, sugli scenari 1 e 2 del bradisismo. Poi il 30 e il 31 maggio verrà simulato uno scenario 3 con l'allontanamento delle persone coinvolte. Sarà una prova che riguarderà numerosi cittadini. A ottobre ci sarà una terza simulazione sull'evacuazione in caso di eruzione vulcanica e coinvolgerà anche parti della città di Napoli. Ciascuna servirà a testare la risposta ai vari scenari ipotizzati. L'esercitazione riguarderà anche le scuole con gli studenti dell'area dei campi flegrei che saranno spostati in altri istituti della Campania, in particolare nel Sannio.